Toldi nelle casse dei comuni trentini, lo annuncia il ministro Fraccaro spiegando un emendamento della finanziaria e sui 70 milioni tagliati nel bilancio provinciale, dice, rimarranno nelle tasche dei trentini. Cominciamo con una novità firmata proprio da Fraccaro in finanziaria. 400 milioni di euro verranno divisi fra tutti i comuni italiani con meno di 20.000 abitanti. Per il trentino si tratta di quasi tutti i comuni. In Trentino più del 90%, solo tre comuni hanno più, in Trentino più di 20.000 abitanti e riceveranno quasi 100.000 euro a testa, più o meno 100.000 euro a testa a seconda della dimensione da spendere subito. Quando arriveranno? È scritto nero su bianco in una legge che questi soldi devono arrivare a gennaio in tutte le casse comunali. Ci sarà l'affidamento diretto dei lavori, quindi lavoreranno ditte locali, ma entro quando vanno spesi? Nella norma c'è scritto espressamente che l'affidamento dei lavori deve essere assegnato e deve iniziare prima del 15 maggio. Soldi che arrivano, anche in Trentino, soldi che vanno. La stessa finanziaria ha tagliato 70 milioni di euro dalle casse della provincia di Trento. Sì, me la prendo volentieri questa responsabilità. Sono 70 milioni che non abbiamo portato via dal Trentino, ma abbiamo lasciato nelle tasche dei trentini. Questo significa ridurre le tasse. Torniamo a Trento. I Cinque Stelle qui sono l'opposizione del cambiamento, l'ha firmato la Lega e leggendo Fugatti. Perché? I trentini volevano un evidente cambio di passo e hanno scelto la Lega e i loro alleati. E perché non hanno scelto il Movimento Cinque Stelle? Noi sui territori facciamo molto più fatica perché la nostra decisione di non allearci con nessuno ci rende difficile raggiungere il 50%. Questo è evidente. A livello nazionale invece siamo molto più forti. Grazie.